10-7, domani sono sesto ora uno sculto e credo che è giudicato, se pare calcolare l'occhio è un conflitto che c'è qui oggi, o una malattia, provi versati in generale, c'è il gruppo che dice questo gruppo, è giro, 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 calcioть, ora movimento su, courage, questo è guанти 내 Feri che ci sono e quindi il momento, non ir Empatia, è giro, non si è giro, non e cioè giro sul Grazie a tutti. Grazie a tutti.